Per far la macedonia che piacciono i bambini, si prende una mela e si taglia pezzettini. L'ananas matura, frutta non verdura, ciliegia più non posso e prugne senza osso. Si spreme bene un limone giallo e mentre canto io danzo e ballo un po' di zucchero e un po' di vin. Questa è la macedonia di noi bambini, questa è la macedonia di noi bambini. Olè!